Alla Domauto ci facciamo in quattro per ogni vostra esigenza. Domauto a Perugia in via Settevalli, a Sant'Andrea delle Fratte in via Pietro Soriano 55, in via Panzarola a Ponte San Giovanni e nella sede fuori regione di via Sandrelli a Camucia. Accessori, ricambi, abbigliamento per auto, moto, bici, kart, camper, autocarri, furgoni e fuoristrada. Perché Domauto è come una grande famiglia con dipendenti che festeggiano i 40 anni di lavoro sempre dietro al banco, sempre pronti ad accogliervi con professionalità e simpatia. Questa è la sede di Sant'Andrea delle Fratte a Perugia in via Soriano al numero 55. Grazie di tutto e della cortesia e della gratitudine nell'azienda. Sono tanti anni, eh? Eh sì, tanti. Tanti anni che siamo qua e vi aspettiamo anche nel 2021. Come no, ancora più avanti. Io sono un veterano della Domauto, 40 anni di collaborazione e sono contento in tutti questi anni ho potuto dare la soddisfazione a tutti i miei colleghi. Ho dei colleghi fantastici e anche le colleghe, sì, quello naturalmente. Tanti avori di buon Natale e buon anno a tutti. Io sì, sono il secondo veterano con Amedeo perché sono 40 anni che sono qua. Perciò se 40 anni so così vuol dire che qui si sta benissimo. Sta benissimo. A 41esimo. Grazie. Auguri a tutti. 4 sedi della Domauto, via Soriano 55 a Sant'Andrea delle Fratte, via Pansarola 14 a Ponte San Giovanni, via Settevali 205 e via Sandrelli 4H a Camuscia. È l'augurio di un Natale sereno e di un felice 2021. E ancora, e ancora, e ancora. Tanti avuti, buon Natale e buon anno. Grazie. Grazie.